La Direzione Infrastrutture Ferroviarie è una struttura relativamente nuova dell'autorità di sistema portuale, nata per progettare, manutenere, costruire e gestire gli impianti ferroviari, gli asset del sistema portuale. La nostra attività spazia quindi dal porto di Trieste ai raccordi della zona industriale al porto di Monfalcone. Oggi inauguriamo l'apertura del Varco 2 del Porto Nuovo. È un momento importante perché si inquadra in un lotto di interventi manutentivi del valore di oltre un milione di euro, i quali congiuntamente agli interventi realizzati in Campo Marzio sul fascio Parenzane da RFI ci consente di poter operare in maniera indipendente con le manovre provenienti dal molo 5 e 6 che utilizzano il Varco 2 e quelle provenienti dal molo 7 che utilizzano il Varco 4. Queste manovre quindi potenzialmente possono avvenire anche in contemporanea e dare quindi una maggior fluidità e evidentemente una maggior capacità a tutto l'impianto ferroviario del porto.